Salve tutti e bentornati in questo nuovo tutorial ragazzi in questo video vi spiego come eliminare così i file duplicati grazie anche al programma Ccleaner Free ovviamente il software sia gratuito che a pagamento quindi in questo caso se hai intenzione di eliminare dei file duplicati puoi sempre usare questo programma in descrizione ho lasciato il link che ti porterà sulla pagina per scaricare il programma Ccleaner questo è il setup ci clicchiamo sopra e installiamo così il programma vai anche a personalizzare così l'installazione del file quindi qua sopra c'è scritto personalizza vai su altro e qui scegli così il percorso file dove installare il programma scegli anche la cartella quindi ti crea anche la cartella come per esempio sfoglia vado in disco locale C faccio crea nuova cartella chiamo Ccleaner e basta e la installa tutto nella cartella e faccio ok faccio avanti e installo il programma una volta fatto vai su strumenti vai su trova duplicati e fai anche la ricerca quindi file avvi così la ricerca e questi ho tutti i file duplicati che mi ha trovato e qui puoi cancellarli ovviamente questa è la versione gratuita e devo per forza mettere la spunta manualmente quindi fare così fare così e fare così non posso eliminarli tutti quindi dovrò per forza impostarli io manualmente così e fare elimina selezionati puoi anche salvare tutti i file come test per capire quali sono i file che ti ha trovato come per esempio duplicati sul desktop e salvi così il documento vado su duplicati ed eccoli qua tutti i file che mi ha trovato quindi se questo video è stato utilissimo su come eliminare trovare e eliminare così i file duplicati nel sistema iscriviti e lascia like per eliminarli ovviamente come ho detto bisogna metterli manualmente e poi fai elimina selezionati quindi grazie a tutti per questa visione e noi ragazzi ci vediamo ad un prossimo tutorial ciao ciao